Il contesto storico e la spiritualità di Fr. Tommaso da Olera sono stati i temi al centro della giornata di studi sul prossimo Beato Bergamasco, nel centro di spiritualità dei padri deoniani di Albino. È stata una cosa molto intensa, molto bella e soprattutto una cosa affascinante dal punto di vista storico e anche spirituale, perché poi ci sono stati gli interventi della professoressa Bartolomeo Magnoli che ha approfondito la mistica in Fr. Tommaso e la relazione di Fr. Tommaso con la sua figlia spirituale, un'altra grande mistica che è il suo Giovanna Maria della Croce di Rovereto. Nel pomeriggio invece a Olera, frazione di Alzano Lombardo che 450 anni fa ha dato i Natali a Fr. Tommaso, nella chiesa parrocchiale la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo di Bergamo, Monsignor Francesco Beschi. Che ha voluto essere presente a sigillare questo cammino che la chiesa di Bergamo sta facendo per arrivare alla beatificazione che avverrà il 21 settembre in Duomo, che non dimentichiamo è la prima beatificazione che avviene in diocese di Bergamo, quindi una grande gioia per la chiesa bergamasca, perché viene premiato un figlio della terra bergamasca proprio in Duomo a Bergamo, nel 450esimo anniversario della sua nascita. Nascita e probabilmente dovrebbe anche essere la prima beatificazione di un francescano del pontificato di Papa Francesco.